Ma ciao! Come stai, paladina? Non ho più sentito le tue telefonate con Max, non fai più video che il tuo amore con Max, non ti senti più. Cos'è? Ti ha vista e ti ha lasciato anche lui. Oh, poverina! Non gli sei piaciuta? Poverina! Cosa ti ha detto? Che sei una cessa? Oh, quanto mi dispiace! Sai cosa puoi fare? Puoi sempre contattare quel ragazzotto, non tanto lo cuace, come si chiama? Il fidanzato della Irina, la bionda maialina. Puoi sempre contattare lui, sono sicurissima che andrete d'accordo, sono sicura. A lui piacerei sicuramente, a lui piacerei sicuramente. Così la smetti di rompere i coglioncini alle famiglie, alle coppie serie, a gente che non ti caga neanche di striscio. E così, siccome siete della stessa razza, tu e il quartino lì, fate una bella coppia. E poi fai tanti video dove lui fa... E tu cagli in live? In video come fai? Lui ruta e tu cagli. Oh, che bello! Eh? Ne? Ma va a cagher.